56 avanti cristo vinti belgi e sconfitti germani all'inizio del terzo libro del de bello gallico cesare ritiene che la gallia sia pacificata per questo all'inizio dell'inverno parte per l'illirico perché come scrive lui stesso è a squoque naziones a dire et regiones cognoscere volevat perché voleva visitare anche quelle nazioni e conoscere quelle regioni ma mentre cesare si trova in illiria all'improvviso scoppia una guerra in gallia più precisamente nell'armorico una regione nella parte nord occidentale della gallia che corrisponde all'attuale bretagna qual è il caso sbelli i veneti per primi e sull'esempio gli altri popoli della regione avevano trattenuto come ostaggi gli ambasciatori dei romani che erano stati mandati per chiedere rifornimenti di grano sono i veneti a fomentare la rivolta contro il dominio romano cesare informato di ciò dal giovane luogotenente publio crasso pur restando in illiria ordina che intanto si fabbrichino navi da guerra sulla loira si addestrino rematori chiamati dalla gallia narbonese si procurino marinai e piloti perché perché la flotta e soprattutto le navi dei veneti erano nettamente superiori a quelle di cui disponevano i romani sia dal punto di vista tecnico che strategico militare nonostante le difficoltà iniziali dovute alla superiorità tecnica della flotta dei veneti cesare riesce ad avere la meglio sui ribelli nella battaglia decisiva nell'attuale golfo di morbihan nella francia nord occidentale l'attuale golfo di morbihan nella francia nord occidentale